la montesa da 20 mila euro aiuto! 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 scusa perché non si è saltato giù? ma sei fuori! com'è che sei fuori? io le faccio così o niente? i stile Marco le fai tu? ho fatto a scuola io venire giù? si ma ci sei! sapi dovevi buttare giù la ruota e allungare le gambe dovevi buttare giù la ruota e allungare le gambe va va sto filmando anche te e non solo lui però aspetta uno o l'altro eh non riesco a fare tutti e due assieme è un po' più alta è un po' più alta è un po' più altissimo Grazie a tutti.